Il teatro è bellissimo, è meraviglioso, è qualcosa di eccezionale, è tutta la vita, è tutta la vita dentro un palcoscenico, sei te, sei te e basta che esprimi te stesso, è la fine del mondo, è un'emozione che non finisce mai, è una passione che ti arde dentro, ti brucia, è qualcosa di eccezionale e consiglio di provarla a chiunque. Il teatro dopo una vita è ancora cercare di capire come si fa e cercare ancora di non essere terrorizzati da mettere piedi in palcoscenico e riuscire a parlare agli altri senza più avere bisogno di un diaframma, è un avanzamento della vita, è tutta la vita. Grazie.